Guardate io sono deluso prima di tutto da me stesso eh perché è normale che eh quando non si riesce a mettere in campo il carattere giusto vuol dire che l'allenatore non riesce a trasferire questa cattiveria agonistica che dovrebbe esserci eh siamo stati troppo fragili siamo stati troppo troppo molli insomma e dispiace aver buttato via soprattutto nelle ultime due gare quello che questa squadra con grande fatica aveva conquistato quindi i processi è giusto che ci siano è giusto che li facciate ma eh il primo responsabile sono io e quindi è giusto che io oggi venga qui anche magari contro il parere della società ma ci metta la faccia perché sono il primo responsabile e mi assumo tutte le responsabilità poi eh ripeto eh sarete voi ad analizzare sarà la proprietà ad analizzare però in questo momento di veramente grande tristezza immensa grandissima è normale prendere coscienza che non siamo riusciti allo nell'obiettivo che secondo me era ampiamente la nostra portata e l'unica cosa che in questo momento mi viene in mente è finire con dignità il campionato e salvando almeno la faccia ma soprattutto caratteriali eh ripeto eh come poi abbiamo dimostrato fino in fondo eh purtroppo dobbiamo sempre subire lo schiaffo per per poi poter cominciare a fare le cose con maggiore scioltezza maggiore convinzione maggiore serenità perché ripeto è chiaro che oggi commentare alla partita è difficile ma poi ogni qual volta ripeto che siamo riusciti a fare quello che dovevamo fare e abbiamo calciato anche in porta abbiamo avuto le nostre occasioni è normale che partire così subire due gol nel giro di due minuti e portare già la partita sul 2 a 0 e poi veramente diventa difficile quindi eh ripeto tutto quello che ho detto eh però eh veramente è una giornata molto triste veramente molto triste mister per capire perché spero di aver capito male io perché sarebbe grave cioè la società le ha chiesto di non venire a parlare no 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 assolutamente no 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 assolutamente è stato è stato mio pensiero cercare subito mucciante per fare la conferenza stampa perché in questi momenti non bisogna mai scappare ma è giusto che i responsabili ci mettono la faccia e quindi io sono qui a fare quello che ho detto prima cioè chiedere innanzitutto scusa a tutte le componenti quindi è finita è finita ma il De Profundis era purtroppo era da troppo tempo nell'area noi abbiamo cercato sempre di di remare di combattere non mi va neanche di stare qui a commentare gli eventuali alibi che potremmo avere avuto perché è giusto oggi guardare il presente guardare la partita di oggi di non essere riusciti a a a fare la partita che dovevamo fare a subire questi due gol ad andare sotto quindi in questo momento bisogna solamente far silenzio e ripeto giocare con dignità con grande dignità è quello che ho chiesto alla squadra al secondo tempo e e stare zitti